Benvenuti a tutti da Anteprima Cinema. Vediamo il trailer di oggi, subito dopo le notizie di cinema. Ma in quei momenti c'hai il cuore che te batte forte, l'adrenalina che sale a mille, la testa che te rimbomba, che sembra che debba scoppiare dentro al casco, non senti niente. C'hai solo i tuoi fratelli, accanto. Solo su quei fratelli puoi contare. A proposito del nuovo libro di Michael Herring Wilson, Scorsese on Scorsese, sappiamo che il regista, vincitore di Oscar, collaborerà con lo stesso Wilson ad un nuovo documento sul cinema britannico. Non sappiamo però quando questo progetto inizierà, perché al momento il regista è molto indaffarato con il suo dramma religioso, Silence, con Daniel Day-Lewis e Benicio Del Toro, e poi è in mente un film su Fran Sinatra con Leonardo DiCaprio. Warner Bros ha speso 2 milioni di dollari affinché il regista Seth Graham Smith adattasse An Only Night in un altro film. L'autore e il suo produttore sono David Katzenberg, che è anche stato chiamato per scrivere la sceneggiatura. Basato sulla storia del Nuovo Testamento, il film è stato descritto come azione ed avventura che circondano i tre re magi della Natività. Graham Smith sta anche contemporaneamente scrivendo la sceneggiatura per il film di Tim Burton, Dark Shadows. E per oggi è tutto, arrivederci prestissimo ad Anteprima Cinema.